Grazie, Presidente. Per la verità devo dirle che, come premessa, non accetto di essere apostrofato come irresponsabile né tantomeno come non veritiero delle mie affermazioni. Si può dire che si è di idea diversa, di opinione diversa, ma non si può affermare questo, altrimenti anch'io sarei autorizzato a dire le stesse cose, eppure vedo buona fede in tutti. E quindi capisco che probabilmente altri non hanno la mia stessa formazione, per cui arrivano determinate decisioni senza comprendere che quella decisione è particolarmente vantaggiosa e favorevole per i mafiosi e per i corrotti. Vede, Presidente, la mafia si pone in antitesi con la Costituzione, con i nostri valori fondamentali. Essa vuole esercitare il controllo del territorio e il potere criminale. Essa vuole infiltrarsi nell'economia, ma anche nella politica. A volte strumentalizza soggetti che credono anche in buona fede di muoversi in una direzione che è vantaggiosa per il detenuto, ma a volte l'obiettivo è sicuramente diverso. E mentre io lo colgo, mi rendo conto che altri non lo colgono. E di questo mi rammarico. Vede, Presidente, quando la seconda guerra di mafia in Sicilia ebbe a svilupparsi, nel suo corso vennero uccisi il capo della squadra mobile, Boris Giuliano, il 21 luglio del 79, e Cesare Terranova, magistrato che aveva fatto domanda per il posto di consigliere istruttore, il 25 settembre del 79. Agli inizi dell'80, il capitano Emanuele Bosile. Il 3 maggio 1980, poi il 6 agosto 1980, il Torre Costa, e quindi il Presidente dell'Aggiunta regionale siciliana, Pier Santi Mattarella. Via via tutti questi omicidi finiscono per determinare l'assunzione di una responsabilità importante per la politica, quella di adottare delle norme che riuscissero a contrastare pienamente la mafia. E come? Ecco, Piola Torre fu un promotore in questo. Egli portò avanti un disegno di legge di grandissima importanza. Quello che istituiva per la prima volta la fattispecie dell'associazione mafiosa, che non esisteva. Quello di pensare alla confisca dei patrimoni mafiosi, che non c'erano. Due idee importanti, ma il 30 aprile del 1982 egli venne ucciso dalla mafia, proprio perché stava conseguendo degli obiettivi che erano di grandissima importanza. E poi occorre ancora il 3 settembre del 1982, con l'omicidio del prefetto dalla Chiesa, per arrivare al Parlamento che adotta quella legge. Perché il Parlamento era restato sonnolento. Perché purtroppo la politica non sempre risponde con la dovuta partecipazione alle esigenze del popolo che soffre e che subisce la pressione mafiosa. È solo chi conosce quei territori, chi conosce quelle persone, quelle organizzazioni, che riesce a cogliere alcuni aspetti che probabilmente altri, in buona fede, non riescono a cogliere. Ma qui non si tratta di parlare di tecnicismo giuridico. Qui si tratta di creare degli strumenti legislativi che non determinano amiguità, dubbi. Sa, Presidente, quando poi nel settembre dell'82 viene emanata questa legge, cominciano ad essere attivate delle importantissime indagini. Perché finalmente la fattispecie c'era. E così su questa fattispecie si crea il maxiprocesso. In mancanza di una fattispecie come quella non sarebbe mai iniziato nel 1985 il processo contro la mafia a Palermo, così come tanti altri processi, maxiprocessi, non sarebbero iniziati. Ebbene, voglio sottolineare quindi come lo strumento legislativo è fondamentale. Uno strumento legislativo che non sia completo, che per quanto risponda ad un'esigenza, quella di rieducare il detenuto e al tempo stesso arrivare a un obiettivo importante, come quello che la nostra Costituzione vuole. Deve però essere completo. Ed essere completo significa che non deve creare dubbi. Cioè bisogna che nessuno pensi che questa legge sia più favorevole di quella che è stata emanata nei confronti dei collaboratori di giustizia. A noi invece è sembrato proprio questo, che la legge attuale abbia questo problema. Guardate, non mi nascondo e non nascondo a nessuno che il disegno di legge che era stato approvato alla Camera, nella passata legislatura. Corrispondeva sostanzialmente, salvo per alcune cose che dirò e che sono di una gravità per quanto mi riguarda, per la mia formazione, gravissime. Poi è chiaro che chi ha una formazione diversa può pensare a una cosa normale e anche di credere che i reati di corruzione siano da parificare a reati ordinari e non debbano invece avere un contrasto specifico come quello nei confronti dei mafiosi e quindi dei reati di mafia. Ma per me, per il mio modo di pensare e per quello delle persone che appartengono al gruppo Movimento 5 Stelle, credo che adottare una legislazione che sia completa e che non crei ambiguità sia fondamentale. guardate, quando Giovanni Falcone, dopo essere stato più volte, come dire, depredato di tutto ciò che gli spettava, perché il Consiglio Superiore non gli riconobbe ciò che meritava, venne preso dal Ministro della Giustizia e venne nominato direttore degli affari penali che all'epoca era come un capodipartimento, perché era in realtà il soggetto che stava insieme a quel Ministro. Cominciarono ad essere adottate delle norme di grande importanza, come quella sui collaboratori di giustizia. Il decreto legge 15 gennaio 1991 numero 8 per la prima volta affronta quel problema e subito dopo viene adottata un'altra normativa di grandissima importanza, quel decreto legge 13 maggio 1991 numero 152, che è quello che introduce per la prima volta il doppio binario con l'articolo 4 bis, certo conformato in un modo diverso da quel che è stato successivamente. Ma ancora viene adottata per la prima volta una legislazione che è quella che prevede i servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per dare maggiore forza a questi organismi. E al tempo stesso viene istituita la Direzione Nazionale Antimafia unitamente alle 26 Direzioni Distrettuali Antimafia. Sono tutti strumenti legislativi importanti che davano un segnale univoco. La mafia va contrastata. Questo è quello che dicevano quegli uomini di quella politica. e poi il 23 maggio del 1992 la grande strage, la dichiarazione di guerra che i mafiosi manifestano allo Stato. Quella esplosione non è soltanto un omicidio di Giovanni Falcone, di sua moglie, degli uomini della scorta è qualcosa di molto di più. Quella esplosione significa che i mafiosi entrano in guerra con lo Stato. E guardate la politica di allora, per quanto abbia poi commesso tanti errori, tanto che quell'assetto cambiò totalmente, si assunse in pieno la responsabilità. E cosa fece? Nel giugno del 1992, con il Decreto Legge numero 306, adotta un 4 bis, quell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario che costituisce una base fondamentale per contrastare i mafiosi. Ma al tempo stesso i mafiosi devono capire che non comandano più quando entrano nel carcere. E il 41 bis, che era stato adottato fino a quel momento soltanto per contrastare determinate esigenze all'interno del carcere, esigenze di ordine pubblico, esigenze di ordine interno alle strutture penitenziarie, cambia la propria applicazione e finisce per costituire una disciplina di trattamento speciale nei confronti dei mafiosi e dei terroristi. Da quel momento in poi, mafiosi e terroristi vengono trattati diversamente. E vengono trattati diversamente anche nell'assegnazione al carcere. Ma questo non perché si vada contro la rieducazione del detenuto. Siamo tutti per la rieducazione del detenuto. Il detenuto che vuole essere rieducato. Ma chi aderisce al patto mafioso è un soggetto che fa una promessa, un giuramento. È un soggetto che non deve più venire meno alle proprie regole. È il soggetto che deve osservare una struttura, deve osservare il suo legame con gli uomini che fanno parte di quell'organizzazione. Il primo comando, l'omertà, oltre a quello del legame con gli altri uomini e l'organizzazione, costituisce il pilastro del funzionamento dell'organizzazione mafiosa. Ecco, il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno di allora, adottando questo decreto legge, hanno piena consapevolezza che a quella dichiarazione di guerra bisogna rispondere con uno strumento legislativo che sia di altissimo contenuto ma di un profondo significato univoco. La politica è contro la mafia. La politica vuole che la mafia venga combattuta in pieno. E' questo quello che abbiamo voluto fare noi. Quando abbiamo, nell'ambito dell'intervento in Senato, riguardante il decreto legge, non vi era una finalità ostruzionistica, né tantomeno una finalità dilatoria. Noi volevamo essere collaboratori di questa politica che aveva fatto un decreto importante, che andava fatto. E' un decreto che certamente andava emesso perché altrimenti sarebbero scaduti i termini e l'8 novembre ci saremmo trovati senza una legge. E quindi vi era l'esigenza e tutti la riconosciamo. Ma non è questo il problema. E' che la legge probabilmente, non so se perché, erano presenti soggetti che avevano lavorato sulle mafie e quindi conoscevano quali erano le reali esigenze. Si sono resi conto che mancava qualcosa. Ma non sono i 26 o i 30 anni di cui ha parlato l'onorevole Calderone importanti. Non sono questi interventi di ordine marginale. Non è questo il problema. Il primo problema è che questa legge non diventi una legge che consente ai mafiosi di accedere ai benefici penitenziari a condizioni molto più vantaggiose rispetto ai collaboratori di giustizia. Ma quale sarà il risultato? Il risultato sarà che il mafioso che è nel carcere e che dopo anni comincia a maturare l'esigenza di dover ricomporre il rapporto con la propria famiglia, forse ha anche iniziato a maturare una sua revisione critica, decide di collaborare. Ma oggi può decidere di collaborare il mafioso che sa che comunque trascorsi un certo numero di anni comunque accederà ai benefici penitenziari? No, non lo farà. E quindi cosa significa questo? Qual è l'immediata conseguenza di tutto questo? L'immediata conseguenza è che certamente da una legge come questa deriverà la mancanza di collaborazione, soprattutto perché il sistema di protezione dei collaboratori non è un sistema capace di sostenere coloro che collaborano con la giustizia. Quante sono le doglianze che arrivano a tutti gli uffici? E anche lì non c'è un euro nella legge di bilancio su questa esigenza. È un'esigenza importante perché investendo sul sistema di protezione e quindi rendendo la vita più facile ai collaboratori rispetto a quella che è attualmente e tanti di voi conoscono quali sono le condizioni di vita di un collaboratore di giustizia, come sia costretta a muoversi da un alloggio ad un altro, come cerchi lavoro e non lo trova, come abbia esigenza di stare con la famiglia, familiare anche lontano, e non ci riescono. Quante sono le difficoltà di un collaboratore di giustizia? Ecco perché vi è oramai una conoscenza diffusa da parte di tutti i detenuti mafiosi che diventare collaboratore, al di là di quelle che possono essere le conseguenze proprio sui benefici penitenziari, determina una grandissima difficoltà. Quanti di loro tornerebbero indietro potendolo fare? E vede, anche questa probabilmente è una riflessione che non è stata fatta. E quando in Senato quindi vennero proposte alcune modifiche, quelle modifiche non erano finalizzate quindi a impedire al Governo di portare a compimento il decreto, ma semplicemente integrarlo così come è stato fatto, così come è stato fatto su altri aspetti. Eppure direi, se fosse stato accettato allora, probabilmente, oggi saremmo qui ad approvare un decreto legge rispetto al quale saremmo tutti d'accordo, all'unanimità l'avremmo atteso e avremmo veramente espresso il nostro plauso verso il lavoro della maggioranza, perché avrebbe accettato determinati punti che sono per noi essenziali. E quali questi punti? Innanzitutto teniamo conto che noi avevamo chiesto che laddove venivano individuate le condizioni per valutare l'istanza del mafioso che voleva accedere ai benefici penitenziari, si considerasse l'obbligo di rappresentare le ragioni che impedivano la mancanza della collaborazione. La collaborazione. Quindi le ragioni della mancanza della collaborazione. Ma perché dicevamo questo? Innanzitutto perché la stessa Corte Costituzionale, nella propria sentenza, nella propria ordinanza, scusatemi, quando evidenziava l'importanza che vi fosse un intervento del Parlamento in modo da colmare questa lacuna, considerava importante anche fare alcune scelte e testualmente nell'ordinanza si legge scelte fra le quali potrebbe ad esempio annoverarsi l'emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione. E perché lo diceva la Corte? Non certo per costringere il mafioso a riferire la collaborazione e quindi a costringerlo a collaborare, ma soltanto per capire se hai ancora mafioso e quindi osservi il principio, il valore dell'omertà e ce l'hai ancora dentro e allora non puoi accedere ai benefici o non sei più mafioso. E allora ci spieghi perché tu ritieni che devi mantenere il silenzio. Ecco, era importante nell'ambito del quadro proprio per capire se il soggetto ancora osservava uno dei comandamenti fondamentali nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. E invece questo è stato ritenuto come un modo per rallentare o per opporsi alla maggioranza. Ma non era questo. Era anzi una forma corretta di collaborazione. Avremmo potuto tacere e dire non hanno guardato a questo e non hanno guardato a quest'altro. Ecco, perché? Solo per dare condizioni vantaggiose. E noi l'abbiamo fatto invece in tempi in cui era possibile intervenire. Proprio perché si potesse guardare con l'obiettività e con l'esigenza che noi avevamo mostrato. E guardate però che in Senato diversamente da quel che noi avevamo chiesto sono state inserite le prescrizioni peculiari che il giudice può apporre nel momento in cui accoglie l'istanza di ammissione ai benefici penitenziari. E questo è l'altro aspetto che unitamente all'emersione delle specifiche ragioni e della mancata collaborazione la Corte Costituzionale considera. Cioè due soli aspetti considera la Corte. Fra le scelte, ad esempio, indica l'emersione delle ragioni della mancata collaborazione e l'introduzione delle prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione. Questo viene accettato e viene accettato in modo generalizzato per tutti i benefici. Quindi guardate che qualcosa il Senato lo fa e la sentenza quindi non solo l'ha conosciuta bene ma l'ha applicata. Perché non ha applicato anche l'altra parte? Solo per fare un dispetto alla minoranza? Ma non credo. Evidentemente si è ritenuto che questo era un aspetto che non andava comunque accettato. Ed è grave per noi questo. Questo è grave perché si consente di mantenere l'omertà. E l'omertà invece va contrastata ad ogni costo. O comunque ci spieghi le ragioni. E cosa dicevamo ancora? Non solo le ragioni. Voi ce le spiegate. Poi ci dite voi mafiosi non possiamo accoglierle perché temiamo per la nostra famiglia. Ebbene, era anche previsto nell'ambito degli emendamenti che noi avevamo proposto ma non ora alla Camera. Già in Senato l'avevamo proposto. Chiedere che la Commissione Centrale appunto per i collaboratori di giustizia e il Servizio Centrale oltre ai servizi di Polizia Giudiziaria effettuassero un approfondimento su questo. Veramente ci sono ragioni di esposizione tale che impediscono una collaborazione? Che impediscono di rendere dichiarazioni? Anche questo era previsto. Eppure anche questo naturalmente non è stato accettato. Ma guardate il collaboratore di giustizia rende dichiarazioni contro l'organizzazione alla quale egli aderisce. E questo già di per sé crea una frattura fra colui che collabora e il mondo mafioso. E quindi già abbiamo una prova più che eloquente più che categorica più che certa che egli si sia tirato fuori da quell'ambiente. perché ci si aspetta solo la reazione dell'organizzazione. E invece nella legge dei collaboratori di giustizia non è stato sufficiente questo. E guardate se andate a controllare l'articolo 16 nonies del decreto legge numero 8 del 1991 il legislatore ha richiesto quindi la politica di allora ha richiesto al collaboratore che ci fosse anche il ravvedimento. Il ravvedimento non è la revisione critica che è stata inserita e anche questo in Senato è stato evidenziato. Una cosa è il ravvedimento una cosa è la revisione critica. Noi avevamo chiesto che venisse inserito tra le condizioni il ravvedimento l'accertato ravvedimento così come avviene per il collaboratore di giustizia. E sapete che per Giovanni Brusca quando Giovanni Brusca chiese la detenzione domiciliare gli mancava soltanto un anno per espiare definitivamente la pena e fece istanza di ammissione di concessione della detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza disse è vero c'è revisione critica è vero hai compiuto il trattamento penitenziario che può dirsi ineccepibile è vero sei stata la persona che ha reso piena collaborazione e quindi certamente non hai più collegamenti però manca il ravvedimento e cos'è il ravvedimento? È il pentimento civile è qualcosa di più è un fatto morale etico che dimostra che sei una persona totalmente diversa e che sei capace di inserirti nella società in modo da esserti allontanato totalmente da quell'organizzazione alla quale prima partecipavi. sei un uomo che ora può tornare in libertà ecco il Tribunale di Sorveglianza dice c'è revisione critica ma non c'è il ravvedimento per aversi il ravvedimento occorre molto di più occorre il perdono verso coloro che tu hai offeso occorre il perdono verso le vittime del reato occorre che tu ti muova in modo da soddisfare quelle esigenze di giustizia riparativa che sono indispensabili tutto questo è il ravvedimento e quando Giovanni Brusca con il proprio difensore ricorre alla Corte di Cassazione chiedendo che venisse corretta corretto l'orientamento di quel Tribunale la Corte di Cassazione dice il Tribunale di Sorveglianza ha benissimo interpretato la disposizione legge il ravvedimento è quello occorrono tutti quegli elementi quindi tu Brusca non puoi tornare fuori dal carcere non puoi andare in detenzione domiciliare eppure era Brusca quello che ha consentito di svelare gli altri Correi nelle varie stragi è colui che ha parlato dei Correi nell'omicidio di Don Pino Puglisi è colui che ha parlato di tantissimi fatti di una gravità assoluta e per lui non è stato consentito e noi cosa abbiamo chiesto in Senato a questa politica a questa maggioranza cosa abbiamo chiesto abbiamo chiesto inserite il ravvedimento che è importante più importante la revisione critica cerchiamo di capire se quel soggetto effettivamente è rientrato e può rientrare nella società civile si è detto no anzi è restata totalmente inascoltata e quindi dire che noi siamo irresponsabili non mi sembra assolutamente corretta gli irresponsabili qua non siamo noi io credo che c'è qualcosa che non va evidentemente da neofita di questa politica io non capisco perché la politica non accolga le cose giuste ma solo per fare un dispetto alla minoranza a coloro che si trovano all'altro lato ma le minoranze devono essere in mala fede secondo la maggioranza no sono in buona fede e cercano di far capire dove stanno gli errori e cercano di farlo capire subito perché si possa intervenire e poi signori non basta c'è ancora qualche cosa di importante noi chiedevamo che il mafioso potesse dire spontaneamente quali erano i beni di cui disponeva ma perché lo avevamo chiesto perché ancora una volta volevamo almeno equiparare il mafioso che accede ai benefici penitenziari al collaboratore di giustizia guardate fra i vari obblighi non ve li enuncio non avrei tempo ma ve ne è uno in particolare specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente nonché immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione versare il danaro frutto di attività illecite l'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro di danaro e dei beni di utilità predetti e questo lo deve fare spontaneamente e se dice il falso qui decade dai benefici decade dalla stessa sentenza favorevole che ha avuto e questo noi lo chiedevamo per i mafiosi non per gravare il mafioso più di ogni altro ma semplicemente per porlo sullo stesso livello del collaboratore e invece per il collaboratore si è voluto che le condizioni fossero più gravi per il mafioso più vantaggioso ma si può pensare che si vada avanti in questo modo signor Presidente io credo no e noi eravamo anche qui in buona fede perché richiamavamo le leggi richiamavamo la Corte Costituzionale abbiamo dato le sentenze alla Corte di Cassazione molti di loro conoscevano tutto questo e non l'hanno accolto e se non l'hanno accolto c'è un motivo e guardi Presidente purtroppo devo dire il tempo scorre così velocemente che questo decreto e tutto ciò che c'è stato negato si colloca in un quadro che per noi è di grande preoccupazione perché perché voi avete visto quando ho parlato della riduzione delle spese per le intercettazioni sapete bene che gli unici strumenti per contrastare la mafia e la corruzione sono le intercettazioni i collaboratori giustizia avete e scoraggerete i collaboratori giustizia grazie a questo vostro disegno di legge che non ha accolto nulla delle nostre proposte e quindi ha reso la condizione degli aspiranti collaboratori giustizia più grave dei mafiosi non collaborerà più nessuno primo secondo abbiamo quindi una situazione nella quale le intercettazioni rappresentano oggi l'unico strumento riducete la spesa per le intercettazioni noi in buona fede chiediamo evidentemente volete fare altro almeno diteci ma l'utilizzo delle intercettazioni sarà ugualmente efficace così come è stato in passato e il governo esprime il parere contrario ma al contrario a che a che si continuino a esercitare le indagini a svolgerne nella giusta esigenza di una società che deve essere garantita deve essere protetta ma se andiamo se diamo questi esempi ma come potremmo chiedere ai giovani agli studenti alle studentesse nelle cui aule andiamo a parlare a dire dobbiamo avere 29 esattamente dobbiamo sicuramente no implacabile giustamente implacabile suono un minuto prima per tutti grazie come potremo noi andare a parlare nelle aule non riusciremo a farlo non avremo io da politico ma come vado ma cosa ho fatto ho semplicemente vantaggiato determinati soggetti e questo e poi vi vorrei parlare delle criptoattività consentiamo ai mafiosi che hanno utilizzato da sempre le criptovalute che essi li dichiarino senza pagare sostanzialmente niente mentre il riciclaggio comporta una spesa del 40% rispetto agli introiti che sono avuti grazie a questa legge alla regolarizzazione delle criptoattività essi potranno con il 3,5% far riemergere tutti i loro beni non solo ma si dice per gli istituti di pena e anche per quanto riguarda le agenzie dell'entrata riduciamo voi dirigenti degli istituti penitenziari voi dirigenti dell'agenzia dell'entrata dovete quest'anno risparmiare 25 milioni di euro e voi i 15 milioni di euro però dovete migliorare il servizio ma come lo migliorano presidente è evidente che si vuole soltanto dire non svolgerete più il vostro servizio e insieme a questo tante tante altre l'ultima affermazione guardate il Senato cosa fa ci elimina i reati contro la pubblica amministrazione in modo che coloro che commettono reati di corruzione non avranno più il problema di quei benefici penitenziari essi non dovranno fare nulla come ci dice la maggioranza e c'è stato poc'anzi ricordato non avranno più bisogno di nulla sono come gli autori di reati ordinari ecco questa è un'altra declassazione che è gravissima perché porre sullo stesso piano la corruzione insieme agli altri reati è qualcosa grazie presidente di molto grave contro cui noi ci battiamo ci battiamo in quest'aula rispettando sempre le regole e non siamo né irresponsabili sia chiaro presidente ne crediamo di aver mai detto bugie grazie grazie onorevole